Bentrovati, bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato fabioambrosi.it Continuiamo a parlare di color correction e continuiamo a parlare degli strumenti che Adobe Premiere mette a nostra disposizione per leggere le informazioni sui nostri schermi e per poter correggere i pixel dei nostri video in maniera leggermente più, come dire, consapevole, scientifica se preferite. Prima però vi ricordo www.fabioambrosi.it, sito dove troverete chiaramente oltre agli articoli legati, collegati a questi video tutorial, anche tante altre cose come news dal mondo dell'informazione, dei media, del broadcasting e chi più ne metta. E poi in futuro tante altre novità vi aspettano e chissà, magari nei prossimi mesi riusciremo ad organizzare anche un video tutorial live di un paio di ore. A proposito, registratevi a questo canale YouTube per non perdere ovviamente anche i prossimi live dei prossimi tutorial che faremo dal vivo e anche le lezioni che seguiranno questa del corso di montaggio video con Adobe Premiere Pro. Basta così, torniamo ad Adobe Premiere e torniamo alla lezione di oggi. Come dicevo, oggi parleremo degli strumenti che Premiere mette a nostra disposizione per fare la color correction. Nelle lezioni precedenti abbiamo visto il pannello controllo Lumetri che ci permette di manipolare i pixel delle nostre immagini modificando la temperatura colore, la luminosità, il contrasto eccetera eccetera. Ok? Ma come fare una color correction in maniera un pochettino più scientifica, un pochettino più accurata? Ecco, si utilizzano degli strumenti. Gli strumenti che si utilizzano principalmente sono l'oscilloscopio, questo che vedete sulla sinistra e il vettorscopio, questo che vedete qui sulla destra. Ora non entraremo nel dettaglio sul come utilizzarli durante la color correction perché come ho già ricordato in passato per fare la color correction, per imparare a fare color correction servirebbe un corso ad hoc e questo non è lo scopo di queste lezioni, di questi tutorial. Quello che noi però vogliamo imparare innanzitutto è vedere come aprirli, dove trovarli, dove sono questi strumenti in Adobe Premiere e poi giusto così per non rimanere a bocca asciutta vedere un attimino come leggerli sommariamente. Ricordando ovviamente che se l'argomento vi interessa e volete approfondire sicuramente troverete molto materiale online sul come utilizzare questi strumenti al meglio quando lavorate alla color correction. Oh, detto questo partiamo dal principio come aprire questi due pannelli. Se per fare color correction utilizzate le scorciatoie degli spazi di lavoro sapete già che cliccando sul bottone colore entrate già nella modalità spazio di lavoro e vi troverete questo pannello già a disposizione. Ripristino lo spazio di lavoro a quello di default. Ecco quando voi non so, state montando il vostro video e a un certo punto volete fare la color correction cliccate qui sulla voce colore, vi vengono aperti i pannelli per la color correction e come potete vedere qui trovate oscilloscopio lumetri e qui trovate gli strumenti per leggere le informazioni dei video che voi state lavorando. Altrimenti se per sbaglio questo pannello è stato chiuso, non lo trovate o vi siete un attimino persi potete sempre andare sulla voce del menu finestra, cercare nel lungo elenco che trovate qui la voce oscilloscopio lumetri, eccolo qui in basso, cliccare ed ecco che viene aperto nuovamente il pannello oscilloscopio lumetri dove trovate gli strumenti per leggere le informazioni cromatiche di luminanza e quant'altro delle vostre immagini. Ma vediamo adesso una volta questi due strumenti principali per come funzionano e come leggerli soprattutto. Premetto esistono diversi strumenti in Adobe Premiere o meglio esistono diverse versioni di questi due strumenti, non li vedremo tutti, ci limitiamo solo a questi due principali. Nel prossimo video tutorial ci concentreremo sul vetroscopio, vale a dire su questo strumentino qui di destra che serve per leggere sostanzialmente le informazioni cromatiche della nostra immagine. www.fabioambrosi.it, sito dove troverete l'articolo di questa video lezione, iscrivetevi a questo canale YouTube, se vi fa piacere cercatemi su Facebook, cercate Fabio Ambrosi, mettete un like, seguitemi perché anche lì daremo notizia dei live e dei video tutorial live quando avranno luogo nei prossimi mesi. Al prossimo video tutorial, non mancate!